Vedere rappresentanti di tutte le forze politiche partecipare ad una stessa manifestazione è un segnale importante del fatto che è ora di mettere la sanità al centro. Lo ha dichiarato l'assessore regionale Filippo Saltamartini sabato scorso in piazza Cavoura d'Ancona, uno dei cinque luoghi delle Marche che si sono animati con gazebo di operatori e volontari che hanno effettuato dimostrazioni delle principali manovre di primo soccorso e fornito informazioni sul corretto uso del 118. Le altre sono state in piazza del Popolo a Pesaro, piazza della Libertà a Macerata, piazza del Popolo a Fermo e piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. La riforma della legge 13 sulla quale si sta aprendo la discussione, ha aggiunto Saltamartini, porterà di fatto alla fine dell'Asur con un ritorno alla centralità delle province. Importanti saranno anche gli atti aziendali con nuovi organigrammi nelle aziende che terranno conto, ad esempio, del numero di medici e degli infermieri. Poi ci sarà il nuovo piano socio-sanitario. Sanità, ha concluso l'assessore, significa diritto alla vita perché essere soccorsi con i modi nei tempi giusti può fare la differenza. Insieme a lui anche Nadia Storti, direttore generale di Asur Marche, che ha sottolineato invece come la rete di emergenza territoriale abbia cambiato il modello di assistenza dei cittadini. Il personale del 118, ora 112, è molto qualificato e si tratta di una rete fondamentale che parte da una telefonata. Per questo, ha detto, anche i cittadini devono essere informati per un corretto utilizzo. In un anno, la centrale operativa di Ancona ha ricevuto 75.000 chiamate per una media di 200 interventi al giorno, il 25% dei quali codici rossi. I due elicotteri dell'elisoccorso, tra Marche ed Umbria, svolgono invece 1.200 interventi nell'arco di 12 mesi. Infermieri, autisti soccorritori e rappresentanti della Croce Rossa, hanno portato una testimonianza delle loro attività, a dimostrazione che il 118, istituito nel 92 con decreto del Presidente della Repubblica, in questi 30 anni è diventato un punto di riferimento insostituibile per il sistema sanitario.